ahahah sei? sei grasciato? vieni bro ci posso scambiare io? non ci scambio e non ci scambio no io scambio acidio no perchè Anthony? perchè? no 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 eh bro Anthony eh c'è Anthony eh ti interessa bro ha mai fatto di stare jacob io mi amo desiderare l'arma che ha truffato al mio amico chi ha truffato hai truffato un'arma e lui ti ha espulso eh no ma l'ha ripresa truffi dice io dice lui dice che truffi ma non è vero non truffa non è vero tanto perché non voleva truffarlo ma guarda che l'ha presa lui l'arma appunto si infatti e poi mi dice ma che nabbo quello tranquillante non ascoltare mamma mia quello mamma mia dice che non è successo niente però non è successo niente non prendi la tua immagine se si può bastare per favore così tutti questi screen mi fanno paura appunto si infatti ti devi abituare appunto fra ma come la prima ti devi abituare fra ti devi abituare non succede nulla però ti devi abituare se vuoi guarda entiti non hai neanche i permessi se vuoi sto anche piccolando non sto spaccando non ho permesso entiti allontanati mamma mia quanto questo è vai bro troppo mi sta andando e sta andando da provocare vabbè dopo lì ascolto perché sto registrando un video vai bro fai fai fra bro bro guarda che sto clippando bro mi fai cagare addosso bro ma che ti sei eh bro ci sogna la notte cioè mi fa proprio paura mi fa prendere uno spavento aspetta fra che qua così non vedo niente a favore guarda 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 sto piccolando iacolo lo sto staccando ho capito però scusi eh è l'isola mia le spese sono mie eh ero sopra allora ok ora vedo i permessi bro tanti truffa come non riesce a giocare bro vuoi scambiare se no scambiare scambiare il libro tanto comunque sai quanto gente truffa se avessi quanta gente ma truffa da me è proprio questo è il gioco eh c'è il dio di salva il mondo ha deciso così non è colpa mia appunto e poi io colpa ne ho che non ho neanche per me di vista che non si fida che ne può andare gentilmente dalla lobby no 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 più lontano perché più lontano di così potrei dire ma come sei sei guarda quanto lontano certo tanto sto qua io solo vedevo sono così metto una posizione perfetta guarda sto fermo tutto il tempo come fai a bere? come sto qua? Jacopo? no Francesca è zitta se non mi vado un attimo ti devo dire mi vado un attimo oh bro ci sei? stavo scherzata che mi sto aggiornando il bro sto 0 1 sto 0 1 eh? oh bro però a me piace un botto Napoli è una bellissima lo so vabbè vuoi chiudere? vuoi chiudere? vuoi chiudere? vuoi chiudo? eh bro è che l'ha appena costruita la nostra base se vuoi però non c'è troppo i materiali ok va bene bro però dobbiamo scambiare però ora dovevo farsi vabbè bro ora però dobbiamo scambiare perché sta un po' annoiando mi hai detto qua a ballare allora bro io ti butto lo schioffo no no tu però ora butta no però io ne ho scambiato uno ieri quello al 130 che mi hanno dato è rara come arma mi piace un botto però io c'ho il progetto intanto intanto io fa il progetto quindi non è rara non è rara se al progetto io ce l'ho intanto quindi non è più rara perché uscita ieri e ha perso un botto di valore ha perso il progetto dico è riuscito ieri dico però bro ci stiamo mettendo troppo appunto sta facendo troppe chiacchiere vuoi scambiare si o no cosa non hai paura però è questo è stato al mondo non deve avere paura vabbè bro si però figa troppo se vuoi scambiare troppo se vuoi scambiare se no te ne vai bro allora bro ah no no ok 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 bro mi sta bene ora no sta proprio così vai fra bro bro troppa ho 47 volte che te lo troppo troppa e mi posso fidare non mi posso fidare oh scambi o non scambi queste sono le regole troppa o non dro bro 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 non stai rompendo le palle per favore e vabbè ma ma è un gioco mamma mia sì ma mica stiamo se tu mi truffi mi truffi cosa cosa no fra 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 senti io me ti espello perché ti espelliamo perché oh scambi serio o droppi un'arma non ci vuole tanto guarda molla troppo io va bene ci ha voluto tanto io te lo ridrò intanto te sto clippando nuvole brosica rasica rasica bimbo merda rasica bimbo merda rasica 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 fa dolore che truffatore tra capo i cavalli e ha pure troppato un'arma al 34 ha visto quanto quante storie faceva questi sono i truffatori fanno sempre storie e fatti gli autos un'arma altrimenti quattro e guarda ce l'ho qua peggio mori che grafoni stava capo nissan che truffatore io già me ne ho accorto che non truffatore comunque io ho clippato tutto ho clippato tutto ho clippato tutto ho clippato tutto bello bello è la pro